Io trovo straordinario che all'idea di lanciare un segnale, un messaggio, ci sia stata una risposta così larga delle forze associative, culturali, delle forze politiche, delle istituzioni, che ci fa ben sperare sull'appuntamento del 19 sera, quindi è un fatto molto, molto importante e che credo lanci anche un messaggio già chiaro. Roma non si volta dall'altra parte, c'è una voglia di riscatto e di testimonianza che è forte e che il 19 sera si rivelerà in tutta la sua forza, uniti contro le mafie, è un messaggio semplice ma è un atto di testimonianza fondamentale.